All'Ippodromo di Vinovo è un mese di aprile veramente molto intenso che è iniziato a Pasquetta, una primavera al Trotto, con due grandi eventi. Il primo è il Gran Premio Costa Azzurra che è stato presentato qui nella sede della città metropolitana e poi il Gran Premio Città di Torino. Gli appuntamenti sono il 7 e il 14 di aprile. Siamo con il direttore dell'Ippodromo di Vinovo, Silvano Ferraris, appuntamenti ovviamente per gli appassionati di Ippica, ma per tutti i torinesi e non solo per passare una bella domenica all'Ippodromo. Una bella domenica per tutti gli appassionati di sport in genere e per chi vuole vivere una giornata all'aria aperta. Domenica 7 aprile nel nostro Ippodromo, ingresso libero. Allora parliamo del Gran Premio Costa Azzurra, c'è un favorito quest'anno o è un pronostico difficile? Ma è sicuramente un pronostico difficile, contestualizzo un attimo il Gran Premio Costa Azzurra, la nostra corsa storica per eccellenza, attiva dal 1963, quindi abbiamo fatto più di 60 anni di edizioni consecutive. Quest'anno la Stare è sicuramente Vividwise S, un cavallo di livello europeo che ha corso e vinto non soltanto in Italia ma anche all'estero. Quindi la Stare è lui, detentore della Corona del Costa Azzurra del 2023, quindi sarà qui per fare il bis, ma non c'è soltanto lui. Ci sono anche altri cavalli, una corsa assolutamente non scontata. C'è Capital Mail, ci sono i migliori driver italiani e internazionali per cui è sicuramente un grandissimo evento sportivo. Torniamo a parlare di famiglie perché c'è questa bellissima iniziativa per avvicinare i bambini al cavallo e all'Ippica. Parte una scuola europea per bambini dai 4 anni in su per avvicinarsi al cavallo e al sulchi. Sì, la inaugureremo effettivamente a fine maggio perché stiamo strutturando le varie strutture che servono per avere dei bambini, per avere degli animali piccoli come i poni all'interno del nostro ipodromo. Il 26 maggio, in occasione della giornata mondiale del bambino, lanceremo questa iniziativa che ha il patrocino un po' di tutti gli enti istituzionali, compreso il Ministero dell'Agricoltura che ci governa. Cercheremo di mettere i bambini non in sella ai poni, ma a farli salire su un carrettino, su un sulchi, su una ghighetta, come diciamo noi, e avvicinarli al mondo dell'animale cavallo in questo modo. Domenica prossima, il 7 di aprile, avremo comunque i poni in utilizzo in ipodromo, avremo una carrozza storica su cui fare dei giri, avremo intrattenimento per bambini e adulti a cura di Jolly Land, per cui una bella giornata da passare all'aria aperta.